ma che ti prendo? ma che ti prendo? ma sono un camion? ah non ti svegli? ti vuoi svegliare? che caso umano! raga comunque è la mia città preferita venite a Mykonos quando potete questi piccoletti è incredibile siccome mi stanno scrivendo in un miliardo spiega un attimo a come vuoi sta ragazza perché tutto il mondo adesso è attivo su di te cioè spiega che almeno capiscono è impossibile dirmi vogliamo conoscere queste ragazze Andrea le vuole conoscere tutte allora grandi raga mentre noi siamo tornati in Italia alle 3 di oggi è uscito il nuovo singolo dei The Colors ciao Stash ciao Dani ciao Ale e niente io l'ho ascoltato il pezzo è una bomba vi metto qui il link così potete andare direttamente su YouTube ma